e riviusi asmr ciao a tutti ragazzi come state? spero tutto bene oggi andremo a fare un video un po' particolare, particolare, particolare e se sentite sgranocchiare è Zeus che sta mangiando le crocchette bene, dicevo oggi un video un po' particolare perché andrò a risucchiare le boba ovvero le perle di tapioca eccole qua ragazzi, guardate quanto belle sono sono bellissime andrò, mi armerò di cannuccia e le andrò a risucchiare che fanno un rumore un po' speciale, un po' super speciale eccole qua ragazzi, sono bellissime boba, 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 boba bene ragazzi mettetevi pure comodi io vado a usare la mia super cannuccia metallic shop e vado a risucchiare queste bellissime perle che sono proprio carine eccole qua ragazzi le nostre perle, perle, perle le perle me le metto tutte qua in fila ragazzi e siamo pronti a risucchiare boba, ascolto carine i Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.